Siamo in 763 Porca troia Tutto c'è imbarzante Io mi stia piostrando Però è per una buona causa Deve essere presentato Il primo giorno di scuola Lo voglio Dopo un mese mi è arrivato Lo voglio Di dove siete Abruzzo Mi si è bloccato delle marche io Di dove siete io Abruzzo Questa di sangue e cenere è stupenda Sì è vero Io mi voglio prendere il regno di carne e fuoco Il secondo Esatto E appunto Poi la copertina del secondo secondo me è anche più bella E anche a me mi piace di bella Poi il uso di Felicia Quello di cui richiedevo Felicia è impattibile Anche se ho letto solamente Duca in appinto suo Però Però Cioè no Letteralmente Sono bellissimi i libri Esatto Cioè poi costano anche poco Quindi ne vale la pena Costano tipo 3,90 Una cosa del genere E' un po' di niente Esatto Poi sto Poi gli periati ne sono anche pochi Quindi era tipo oggi Metto tipo in pausa la live Perché devo tipo impostare tutta l'attrezzatura Grande viola Non me la fa mettere in pausa Quindi bene Devo portarmi tutte queste cose al prezzo Avete letto Sbid? No Ma che libro è Sbid? Oddio mai sentire No Non anch'io Non è vero Raga Io non puoi prendere la trasmettiva O i libri no Non ho capito Ok Raga C'è un pochissimo Ci sono raga Giuro che ci sono Però io tipo tra un po' stacco Perché domani ho scuola Non sono pronta Devo andare a dormire tipo Tra un po' Perché se no io domani non mi sveglio E quindi Ok Ok Fatto Poi dopo fanno tipo le live Francia e Mary Non so se Ancora le live leppure Mi sembra Tipo Francia e Mary quando iniziano scuola? Se lo sapete In tredici Martedì credo Io inizio il 15 No Mi spieghi Sì Poi ti spiego Poi ti spiego Già tranquillo Ci fai vedere cosa ti metti domani Vabbè Mi metto Flexo Outfit Perché mi piace Cioè ci sta in realtà Anche se Sono molto Tidubante sulla maglia Però Il jeans È quello sicuro Allora Jeans Io metto i jeans trappati Tipo Normale Così Poi sopra tipo Oh sto top Che ho portato palesemente alla mia migliore amica Ma Ok Mi vuole bene lo stesso Oppure Questo qui E poi sopra tipo Non so se avete presente Quelle giacche tipo Effetto americano Che mettono un botto Gli americani Quelle giacche Sì anche la Eh esatto O quella beige Perché sono una beige marrone Oppure quella nera Non so però Devo vedere Oppure la Quella Io ce l'ho verde È bellissima Quella americana Io ce l'ho Beige E marrone E poi ce l'ho Nera E entrambe Presa Bershka Bershka la vita La rò Ditemi che non sono l'unica Che ama Bershka Io dal king Terranuolo con brada Le maglie Io primo giorno Vado con i jeans trappati Tanto No Pure io Volevo andare con i jeans trappati Però Mi hanno detto Di fare bella figura Con i professori Quindi dal secondo Metto quelli strappati Io perché Non cambia niente Però Faccio il secondo superiore Quindi Ormai C'è fatta abitudine No Vabbè Io alle medie Ho sempre messo Jeans Un sacco strappati E tipo Magliette un botto corte Quindi Alle super ricredo Sia una cosa Super fattibile In realtà Avendo messo le cose corte Sempre All'imera Io Ok Ok Mette un attimo Posso sperare Il mio telefono Quanto è Il mio telefono Domani Io lo 15 Purtroppo Io domani E no Lecce Non ho detto Non ditemi che è successo La mia ma Quest'estate è passata Troppo in fretta Letteralmente Non mi voglio spruzzare Con l'acqua Ari buonanotte Ciao Oh ma tipo Questa bellezza Madonna Veramente Poi tipo Anche i flash Poi Poi La scrittura È un botto enorme Ma tu ce l'hai Il regno dei malvagi Perché lo voglio Troppo prendere No Lo voglio prendere L'altro giorno Lo voglio prendere Ero tentata Ero tentata Di prenderla Di prenderlo Però poi ho detto No vabbè Mi prendo il secondo Di kiss me Perché il primo Ha finito malissimo No io lo volevo Prendere però La copertina È tutta strappata 20 euro Non gli do Cioè per Un libro Con la copertina strappata No C'era tutta rovinata Ma tipo Secondo me I libri Della Vabbè Della Oscar Non mi ricordo La casa editrice Non la conosco Costano un sacco Cioè tipo Il regno dei malvagi 21 euro Esagerato Come prezzo Per me Cioè nel senso Però tipo Il regno dei malvagi La copertina è stupenda Anche tipo C'ha le copertine gialle Ed è stupendo Io voglio leggere Io voglio leggere Tutta la saga Di Sì anch'io Sì anch'io Franci Franci l'ha comprata Non so se la C'è Franci Presente No sì sì Ho visto Infatti voglio prendere Tutti e quattro Volumi Non so se si chiami Così la saga Però mi ispira Cioè tipo Troppo Io no la inizio il 15 La scuola raga Ti hanno chiesto Che scuola fai Faccio un tecnico Averario Ci sta Io senza umane Io devo iniziare Scienza umane Non sono pronta Quindi niente Scienza umane Ci sta è bella Cioè Io volevo fare Sì era bella la scuola Però In latino Cioè mi mette Un'ansia Assurda Ah in latino Sì è difficile Però Vi conoscete già Sì è attraverso TikTok Cioè Conosciamo Esatto Infatti Conosciamo La parola è un po' Troppo grossa Però Che tipo Mi ha scritto Da booktok raga Passaggi di TikTok Sì Va bene Ragazzi Domani Svegli alle 4 Domani Insomma Tra qualche ora Ma poi alle 4 Mi sto conendo Alle 4 è un po' Troppo presto Per me Cioè Sinceramente Esatto Raga la Franci Franci Ha fatto un nuovo post E io l'ho appena visto In questo momento Eh dovete tipo commentare Come si chiama Su babbo tipo Hashtag chi Il babbo di Franci E Mary Tipo Nella live Prima lettura Hanno detto di commentare Tipo hashtag Su babbo Panevino Non so perché Mi sa che si chiama Tipo Pasquale Pasqualino Panevino Si devi commentare Commenta Cosa del genere Viola chiede Dali Se può accettare La mia richiesta Ale Accettagli La richiesta Ale Io lavoro Alle 4 E a scuola La sera What In che sen Cioè No Comunque Tipo andare a scuola Di sera Ci starebbe un botto Non so perché Però ci starebbe Io sicuramente Il 14 Mi sveglio Sta Sì Anche io Mi metti Moderatore No Tu No No Le scuole serali Sarebbero Fidissime Cioè Proprio Sì Esatto Però più che altro Io tipo La sera Non capisco più Una mazza Cioè tipo Se vuoi dire Quelle cavolate Di prima categoria Quindi non capirei niente Però Sì Ci stanno Tra l'altro Mi sono piattrata I capelli malissimo Quindi sto anche Un po' Incappata Perché mi sono piattrati male Anni Quattordici Quasi quindici Ottobre Parte la ship No raga No raga A me inizia il diciannove Beato O beata Perché a me non inizia il diciannove La scuola No Il dodici Mi deve iniziare Magicamente Quando chiudi la live A voi Tra poco Tipo Tipo Alle Dieci E qualcosa Tanto Poi da me ci sono poche persone Quindi Guardate quante persone ci stanno Adesso A spai ma dove In classe No In live Ah Siamo in Trecentotrenta Ma in Vabbè Però prima eravamo arrivati A tipo Uno punto Tre K No O due Fate sport Io Però boh Ciao Vi adoro troppo Vi stradure Ciao Ma grazie 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 Comunque tipo Che carini I libri Defiti Siamo tutti messi Ma Quella libreria Dove l'hai presa Dove l'hai presa Che vorrei comprarla anch'io Ikea Ikea Non costa pochissimo Cioè poco per essere una libreria Così tanto spaziosa Ti giuro la vita Vabbè che ho pochi libri Io però Per ora Poi si vedrà Neanche io ne ho tantissimi Dio No io ne ho ragazzi Tipo Così C'è il senso Questi sono i miei libri E poi vabbè Tipo Alla mia libreria Grazie Ci sono quattro scaffali Dedicati ai libri E poi vabbè Gli ultimi due alla scuola Ma Questa è la parte brutta Ci sta Ci sta Ecco vabbè La scaffa dell'iPad Grazie Grazie Con le rose ti prego C'è una che mi torna sempre un botto Ma io non so Cioè Tipo Sto scaffale Mi piace un botto Perché sopra ci sono I libri Delle mie Delle mie Autrici preferite Ovvero Quali Per Teresa E Cecilia Caudi E tipo La vita Quelli di Felicia Sono stupendi Per me Cioè Quanto li inizierò a leggere Cioè Raga Leggete tutti i tuoi quali in affitto Tipo Immediatamente Ma tu abbini Tipo I posti Tra la copertina Sì Ci Ci provo Ti hai dicono Pochi di pochi Ora vi faccio vedere I temps of the house Ok La copertina Dato che è Rosa Comunque C'è La parte Qua Verde A me Ascita una cosa Così Un misto Fra rose Verde Non so Se si Vede Raga Ho anche un peluche Ah beh Figo Io ho l'azzurro Tipo Anche questo Mettevo Però li ho staccati Tutti quelli azzurri Poi ho messo Tipo Anche nella wishlist I Alcuni post-it Sperando che qualcuno Mi li regala Non mi si blocca Raga Libro Oddio Raga La connessione va malissimo La connessione va male Libro che non vi piace per niente Che non mi piace per niente Non c'è Però che non mi è piaciuto Che avevo altre aspettative E la deluse paresemente Finanza dell'inverno Raga Non odiatemi A me non è piaciuto Ce l'ho trovato un salto Ma mi si sente Non mi si sente Raga mi si sente Che carino Che carino E' peluscia Odio Vuole peluscia Questo raga Raga Certo Mi sento Che bellino Ok Mi si vede Mi prego raga Che carino Ma mi vedi viola Si ti vedo Ok No perché Poi anche questo io Raga che carino Mi prego Ok Io questo Sembravo tipo dei bambini Sembravo tipo dei bambini Di 5 anni Si ti si vede In che senso Grazie E' donando Non devi Ti supplico Raga Siamo in 185 Beh buono Cioè Si sta Però tipo Prima eravamo I 1.1k Io sono asciugata Dovevo continuare A fargli la piastra Entrava più gente Esatto Lancia il peluche in aria No Poverino Gli hai dato un nome Ai tuoi Allora Si Allora lui si chiama Dado Dado Ok Non so perché Però raga mi andava E poi l'altro Non gli ho ancora dato un nome In realtà Lui può Il pettino Poi Ho molti altri Però Ce li ho Nella casa vecchia E lui non lo so Come Inventiamo un nome Qua in live Che nome Mi date a lui Ragazzi Commentate con un nome Che ci potrebbe piacere Per questo peluche Qua Duca in affitto Perché te lo consigli 13-14 Io sto cercando Di farmi regalare Il peluche Di sticcio Quello grande Madonna Quello là Lo voglio troppo Letteralmente Che nomi ti scrivano? Ho paura Bob Bob Comunque Sì tipo Raga Io dormo Già in pantaloni Lunghi Ma perché Io la notte Ho freddo Vada per Bob Raga Cioè raga Non so se sono Una persona normale Io Però io Già dormo Con i pantaloni Lunghi La notte Io ho freddo Io corti Ho un gran caldo No Ma perché Da me fa Cioè Fa fresco No Da me anche Tacchino Tacchino Altro nome Non ci sta Tacchino Come lo chiamiamo Raga Sei bellissimo Grazie Hai letto Il fabbricante Di tacchime Sì Tu l'hai letto Il fabbricante No Devo Io da nero agosto Che dormo Con i pantaloni Io ci dormo Da Il 25 agosto Con i pantaloni Lunghi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.